Ci sono tre stadie alla mezza di un certo livello, cioè dove magari è possibile giocare, soprattutto per le squadre locali. Il Renda a San Biase, inutilizzabile per il Manto Erboso, per le tribune. Poi c'è il Carlei in Via del Progresso, uno stadio della provincia, anche questo stadio inutilizzabile. Poi c'è il Dipolito a Nicastro, anche questo stadio a volte inutilizzabile. Perché? Perché anche lì il Manto Erboso ha dato problemi. Nella gara di domenica, Vigor la mezza Teramo, vi leggo la nota, l'articolo, Vigor contro il Teramo non si gioca, la società se non si interverrà giocheremo in un altro stadio. Terreno di gioco impraticabile e gara rinviata, riemerge il caso del Manto Erboso. Ma come è possibile, dopo tanti anni, e soprattutto con una società professionistica che sta giocando, la Vigor la mezza, ancora ritorna il caso del Manto Erboso. Che cosa è successo? Andiamo a vedere. Entriamo sul terreno di gioco. Siamo con il Presidente Claudio Arpaia, che ringraziamo. Claudio, ci fermiamo qui, è proprio all'entrata. Anche perché non potremmo andare avanti, perché si rischia l'instabilità, nel senso che non riusciamo nemmeno a camminare. Quindi ci fermiamo proprio qui. Non possiamo andare oltre. Dai uno sguardo, facciamo il movimento a 180 gradi con la telecamera, con il Van Vaccaro. Guardate, la situazione è... cioè, sembra che Erbetta quasi non ce n'è, non ce ne sia, guardate. Perché è una situazione veramente... ma come si fa? Uno stadio che comunque ha in una città, che ha una squadra professionistica, ancora in queste condizioni. Mi dici la storia di questo Manto Erboso? Allora, la situazione è questa qua. Il Manto Erboso del Guido di Ippolito è, diciamo, manutentato giornalmente per l'ordinaria amministrazione. La manutenzione c'è, volendo, c'è. C'è, c'è, c'è. La manutenzione ordinaria c'è, esiste da quando siamo noi nella Vigola Messia, da tantissimi anni. Anche perché credo che ci sia ancora l'esperto Pino Crapella che ci lavora, no? Sì, 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 la solita azienda ormai che da decenni si prende cura del Manto Erboso del Guido di Ippolito. Per cui la manutenzione ordinaria c'è ed è, diciamo, giornalmente qui sul campo a lavorare. Il problema non è del Manto Erboso, ma del sottostante, ovvero del drenaggio. Cioè, qui lo stadio Guido di Ippolito, nella parte sottostante, è stata realizzata, come tutti gli stati in Manto Erboso, con un drenaggio di circa 50-60 cm che consente all'acqua piovana poi di defluire e di incanalarsi poi nelle tubature qui esterne. Il problema è che, non essendo stato manutentato negli ultimi dieci anni, si è compattato questo drenaggio e allora necessita di un rizzollamento di nuovi canali di scolo nel sottostante per permettere all'acqua di defluire. Naturalmente questi sono dei lavori di manutenzione straordinaria che non competono alla manutenzione ordinaria che si è accollata alla Vigola Messia in questi anni, ragion per cui ogni volta che piove l'acqua rimane sulla parte superiore del campo. Su questo campo chi gioca? Gioca alla Vigola Messia ogni domenica? Una domenica sì, una domenica no? Non fate allenamento qui proprio per evitare di rovinarlo? Sì, dunque noi durante la settimana, specialmente nel periodo invernale, evitiamo tassativamente di venire qui ad allenarci per cui c'è ancora un aggravio di spese per affittare i campi nelle zone limitrofe per evitare di calpestare l'erba durante la settimana. Il problema è che noi evitiamo di allenarci ed evitiamo di rovinarlo, il problema è che poi spesso succede che il sabato la squadra del Sambiase che milita nel campionato di eccellenza, avendo l'impossibilità di giocare alla renda di Sambiase purtroppo si deve per forza disputare a legare Casalinghe qui al Dipolite. Per cui possiamo benissimo immaginare cosa succede giocare in 24 ore in questo stadio d'inverno. Cioè a distanza di 24 ore due squadre che giocano, noi arriviamo la domenica con un campo praticamente inagibile. E' una cosa impossibile dopo tanti anni ancora che una squadra di livello professionistico possa avere questo stadio in queste condizioni il Renda è inutilizzabile, inutilizzabile il Carlei di via del progresso, quindi questa è una cosa che spetta al Comune. Voglio ricordare anche che per esempio, io non so se è vero ma forse Appaia ne è più informato in quanto Presidente, la curva, questa curva che è finita, sembra perfettamente agibile, non viene aperta perché altrimenti si supera il numero di spettatori tali per cui poi bisognerebbe fare altri lavori tipo le riprese, l'illuminazione e via dicendo. Sì, esattamente. Questa curva che voi vedete adesso è stata ultimata ormai da due o tre anni, se non ricordo male, è perfettamente funzionante, solo che non è agibile, ovvero per essere tale lo stadio poi dovrebbe essere munito di videosorveglianza, di tornelli all'esterno del campo, anche se i tornelli potremmo anche evitarli perché non sono obbligatori per la categoria che abbiamo. Però purtroppo anche da parte della pubblica sicurezza, la Polizia di Stato, secondo la Polizia necessiterebbe anche di altre opere di messa in sicurezza. Però voglio dire, ormai il grosso è fatto, voglio dire, è sotto gli occhi di tutto, mancherebbero soltanto pochissime, ma veramente poche opere ancora per metterla in stato di agibilità. Ed è un peccato che, voglio dire, abbiamo questa bellissima curva, i tifosi che di solito stazionano nelle curve e non nei distinti non possono soffrire di questa curva. Guardate, solo per piccole cose, perché lo stadio c'è nel centro della città quasi, però non si può utilizzare. Manterbos, Vigor Ramezzateramo con la capolista, scontro al vertice, c'era gente, ieri anche perché non pioveva. Sì, sì, ormai io ieri, per esempio, ad un'ora già dall'inizio della gara, non essendo più ormai la pioggia battente sulla mezza, notavamo sempre più gente a correre allo stadio. Infatti ieri c'era una bella immagine di pubblico presente nelle tribune. Purtroppo sono dovuti tornare a casa sconsolati, noi forse più di loro, perché non abbiamo potuto dare seguito a questo incontro che abbiamo preparato benissimo in settimane, i calciatori erano tutti pronti. Però purtroppo, per le note vicende che voi sapete, non siamo potuti, come dire, scendere in campo. Qui al Guido di Polito, mi pare un annetto fa qualcosa in più forza, ha giocato la nazionale italiana, mi pare Under 19, Under 21, adesso non ricordo. Ha giocato di sera, quindi con l'illuminazione, almeno quella era perfettamente funzionante. Sì, era perfettamente funzionante, ma voglio ricordare che è tutta a spese nostre, nel senso che noi abbiamo da anni ormai, non si ricordo, ogni anno, chiamato una ditta specializzata per il ripristino dei fari. Quindi fatemi capire, prima della nazionale non si poteva giocare, voi avete comprato i fari? Noi abbiamo comprato a spese nostre i fari per permettere le gare in notturna, per cui tutto quello che vedete di notte è merito nostro. Che cifra? In più di 10.000 euro Quasi 22-23.000 euro Questo ve li doveva rimborsare il comune o no? Era una spesa che avete fatto di vostra iniziativa? Sono tutte spese di manutenzione straordinarie, che non competono alla squadra che gestisce lo stadio. Quindi? Volevo dire che per permettere ai nostri tifosi di fare le gare in notturna, che spesso durante, soprattutto quando è il periodo di agosto, i primi di settembre, Si può giocare di pomeriggio e poi è bello di sera. Esatto, tutti quanti ci dicono perché non giochiamo di sera, perché il problema è che giocare di sera, oltre ad avere i fari in perfetto stato funzionante, c'è anche il problema del gruppo di continuità, è il gruppo elettrogino, che essendosi, credo io, già da un anno ormai è andato a fuoco, per cui non funziona, non possiamo permettere una gara notturna. Se dovesse andare via la corrente, il gruppo di continuità, che dovrebbe poi, come dire, accendere, se intervenire... Non c'è. Non c'è, non esiste. Per cui altre spese, altre 5-6.000 euro di gruppo elettrogino in questo momento non possiamo permetterci. Per cui ad agosto, i primi di settembre, quando i tifosi ci dicono perché non giochiamo in notturna, il problema è però. La verità è questa, che non possiamo permetterci la gara in notturna. Questo è un messaggio anche da mandare agli amici sportivi, ai tifosi, no? Certo, vogliamo vedere una gran bella squadra in campo che possa vincere, però il contributo economico è anche per la possibilità di avere una struttura funzionante in città. Negli spogliatoi i giocatori godono di docce stupende, bagni stupendi? Purtroppo no, purtroppo no. Anche negli spogliatoi abbiamo dei notevolissimi problemi. Non più di due settimane fa sono scoppiati dei tubi dell'acqua, abbiamo rischiato anche di prendere una multa perché non c'è l'acqua calda a fine partita, però poi il Comune, devo dire, in questo caso è intervenuto con una squadra per il ripristino momentaneo del problema, anche se il problema di natura persiste perché ci sono delle tubazioni ormai datate nel tempo, cioè da oltre 20 anni fatte necessitano di manutenzione ordinale. Come in tutte le case, chi di noi si ricorda che ogni tanto scoppia il tubo, bisogna andare lì a ripararlo. Cioè non si può fare un'opera a tampone così, sì è vero abbiamo riparato il problema per questa settimana, ma da qui a qualche mese si riproporrà normalmente il problema. E attenzione perché la Vigo Ramezia rischia veramente di non giocare più al guido di Polito. Sì, allora il problema è questo qua, nel mese di maggio la Lega predispone un sopralluogo sulle strutture e diciamo a maggio era tutto in ordine, nel senso che avranno i requisiti per poter giocare in Lega professionisti. Però il problema è questo qua, se dovesse perdurare questo stato di cose potremmo avere ancora un intervento da parte della Lega con altri sopralluoghi dove potrebbero anche loro rilevare il fatto che questo manto erboso, questo campo non è più agibile per una gara di professionisti. Per cui potrebbero, dico non lo so ancora, ma potrebbe esserci l'ipotesi che loro ci indicano di giocare presso altre strutture. Quindi attenzione, la Vigo Ramezia potrebbe non giocare più al di Polito. È fattibile, è serio, si potrebbe verificare la cosa. Tra le tante questioni, per esempio la tribuna avete provveduto anche a spese vostre ad allargare un po' la tribuna stampa? Totalmente a spese nostre, perché noi abbiamo fatto richiesta all'inizio dell'anno di un ampliamento della tribuna stampa in quanto quest'anno il campionato è di rilievo unico a livello della storia della Vigo Ramezia. Per cui necessitavamo di avere più spazio nella tribuna stampa, abbiamo fatto numerosissime richieste all'ente proprietario dello stadio, però è rimasta, come dire, inascoltata questa nostra richiesta. Per cui, dovendo temperare, altrimenti la Lega sicuramente ci avrebbe sanzionato, ci siamo adoperati e abbiamo totalmente a nostre spese ampliato la tribuna stampa con un aggravio ulteriore di spese al nostro carico. E allora, questo è un annesimo caso, amici telespettatori, di come in Italia e forse anche di più in Calabria Il privato fa quello che può, fa quello che deve, ci sono degli impenditori privati che gestiscono questa squadra di livello professionista e poi invece il pubblico, come vedete, non fa la sua parte. Il concetto è questo, perché lasciando perdere questa amministrazione, l'altra, ce n'era un'altra ancora, questo campo è finito così perché poi pian piano è stato abbandonato. Il privato fa il suo, il pubblico no. No, ma non vuole essere un attacco politico a nessuno, ci mancherebbe. Noi non vogliamo essere quelli che attaccano, ogni volta c'è un piccolo problema. Però è sotto gli occhi di tutti qual è la situazione attuale dello Stato di Guido di Polito. Cioè, qui andiamo avanti solo perché noi, imprenditori, noi proprietari della Vigor Lamezia, ci adoperiamo affinché il campionato si svolga regolarmente. Tra l'altro, se non dovessimo adempiere agli obblighi da parte della Lega, saremmo comunque sanzionati. Per cui il problema è che noi non possiamo essere come gli enti pubblici che aspettano, poi vediamo le solite cose della pubblica amministrazione con le lungaggini. Qua ti arriva un fax della Lega, devi ottemperare entro X giorni, punto. Non esiste deroga. Sanzioni economiche? Sanzioni economiche, pesantissime. Se noi non avessimo allargato la tribuna stampa, non avessimo avuto quest'anno altri soldi spesi per il sistema Wi-Fi dello Stato, in quanto noi ogni fine gara siamo obbligati a mandare dei highlights in tutto il circuito nazionale, per cui con telecamere ad alta definizione, un sistema Wi-Fi che consente la trasmissione di questi dati, tutto è spese nostre. Quindi che fate? Se voi non dovreste più gestire la via della mezza come dirigente, la struttura che avete fatto, tipo tribuna stampa, che fate? Smontate e ve la riportate? No, assolutamente no. Lasciate qui ai prossimi? Lasciamo qui agli altri che vorranno poi intendere e proseguire. Non possiamo assolutamente togliere poi le strutture che noi, come dire... Quindi creano, smontano e togliete dal fitto che pagate al Comune quello che avete creato? Assolutamente no. Va bene, come vedete. Aspettiamo il pubblico, speriamo bene. Speriamo che questo campo ritorni ad essere bello e verde come lo era qualche anno fa. Volevo ricordare che ci sono delle immagini di qualche anno fa, delle condizioni in cui era lo stadio Guido di Ippolito. Sono presenti su internet, sono accessibili a tutti. Andate a vedere in che condizioni era. Un prato splendido, veramente eccezionale. La gente che veniva qua a giocare negli ultimi anni, cioè si rendeva conto di quanto bello fosse il manto del Guido di Ippolito. Veramente di livelli non di Serie C ma anche molto, molto più superiori. E questa è la condizione attuale, novembre 2013. Grazie al Presidente Claudio Alpaia. Quando si recupererà Vigor Teramo? Probabilmente. Ancora non si sa, però. Ancora non si sa. Arriverà tra oggi e domani una nota da parte della Lega. Poi ci sarà un... Sarà un'infrastrima settimanale. Sicuramente sì. Poi ci sarà un accordo tra noi e il Teramo. Perché voglio dire, anche loro sono due subbarcare questa trasferta lontanissima, spesa e tutto il resto. Se ne dovranno subbarcare ancora un'altra. Però purtroppo non è di peso dalla nostra volontà. E niente. Poi credo io, fra un paio di settimane, credo in mercoledì, recupereremo questa gara. I biglietti sono recuperabili facilmente. Anche chi ha perso il tagliandino? Assolutamente sì. No, chi ha perso il tagliandino no, purtroppo. Però tutti quanti hanno... Nominativa non si può risalire, no? Non lo so. Stiamo aspettando dalla Lega delle indicazioni. Comunque, al di là di questo, il biglietto è totalmente rimborsabile. Chi non vuole più venire, può anche riprendere i soldi, può utilizzare lo stesso biglietto per la gara di recupero. Ci scusiamo nuovamente con i nostri tifosi, perché, come dire, il disagio comunque è stato provocato anche a loro. E niente. Non è di peso, ripeto, dalla nostra volontà. Il privato c'è, il pubblico faccia quello che deve fare. Amici dell'amministrazione comunale, come ha detto il Presidente, non è un attacco, però lo stato di fatto è questo. Preoccupiamoci di quello che dovrà essere fatto qui, al Guido di Polito, di La Mezza.